Buongiorno, ben trovati all'appuntamento di martedì 5 febbraio 2019 con la nostra rassegna stampa. Martino 6 come di consueto si apre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara. Il titolo di apertura riguarda i problemi in ospedale per via dell'influenza, reparti super affollati, in particolare i reparti di pediatria, geriatria e medicina. Vedete l'ospedale scoppia per l'influenza, non ci sono più posti letto. Sempre a Pescara, piano traffico, via libera ai nuovi sensi unici. Restiamo nel capoluogo adriatico, discariche, inchiesta chiusa, 9 indagati. Andiamo più in basso, ci spostiamo a Montesilvano, telecamere per sorvegliare sette parchi. Parliamo anche della Brioni, scontro con i sindacati sul contratto. Questo è il titolo che arriva da Penne. La cronaca ci porta poi a Torino di Sangro, un altro incidente mortale frontale fra auto. Muore a 46 anni la vittima è Cosimo Forio, rappresentante di Francavilla. Vediamo in alto invece i consueti richiami che riguardano la politica, perché l'ultima settimana di campagna elettorale, anche meno, domenica si andrà infatti al voto. Autostrade a 24 a 25, polemica tra il ministro Toninelli e Strada dei Parchi. Ieri il ministro Toninelli è stato a Pescara. Vedete nella foto il suo incontro con la stampa a sostegno, in questo caso della candidata presidente Sara Marcozzi. Vediamo sul fronte del centro-destra Meloni a Chieti con Marsiglio. Servono più infrastrutture, ha detto il presidente di Fratelli d'Italia. Poi in casa del centro-sinistra Legnini, io parlo di lavoro. Gli altri, ha detto l'ex vicepresidente del CSM, fanno propaganda. Parliamo anche di sport del Pescara. Pescara in affanno dopo il pesante 5 a 1 casalingo subito ad opera del Brescia. Pilon a questo punto sembra aver deciso, cambierà modulo. L'allenatore è pronto a passare al 4-3-1-2, ma domenica prossima affoggia. Potrebbe scendere in campo con il 3-5-2 anche per via delle assenze degli squalificati del grosso. Graviono, dunque, problemi in difesa per il tecnico Biancazzurro in vista della gara allo Zaccheria. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di Chieti Lanciano Vasto. La cronaca ci porta a Chieti. Palpeggia Lunna, prof indagato, insegnante delle medie accusato da una ragazzina. Mi ha toccato a ricreazione. Poi vedete a centro pagina la notizia, ritroviamo la notizia di un altro incidente. Questa volta sulla 24, docente Teatino perde la vita nello schianto contro il tir. Chieti, ponte a rischio, solo 54 mila euro per i lavori. Poi a Casalbordino la spiaggia è sparita. La rabbia dei balneatori mareggiate che hanno messo in ginocchio nell'ultimo weekend la nostra regione. Da Martinsicuro fino al Vastese si fa la conta dei danni. Lanciano, Ecolan, cresce in arrivo 28 assunzioni. Andiamo a vedere anche più in basso, parliamo di sport, parliamo di ginnastica ritmica. Armonia, argento per le baby della società Teatina. Vediamo anche un altro titolo, più in basso, che riguarda la CNA. Un portale, infatti, della CNA aiuta a trovare un impiego. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Teramo del centro. Ne parlavamo qualche istante fa. Mareggiate, erosione, chiesto lo stato di calamità. Gran parte della costa teramana devastata nei giorni scorsi. Il convegno della CGL di Teramo con il decreto sicurezza, 80 disoccupati in provincia. E poi ancora a Teramo, anziani truffati, arrestata, banda di Rom. E poi a Martinsicuro vende un pitone illegalmente. È stato denunciato. E poi a Roseto degli Abruzzi, vedete più in basso, dopo lo stop, ripartono gli scuolabus. Vediamo anche, spostiamoci sotto la fotonotizia, insulti alle anunne, prof a processo, insegnante di sostegno accusata di abuso di mezzi di correzione. Parliamo anche del Teramo e dunque di calcio. Gomis, il portiere bianco-rosso, il Teramo si salverà. Il portiere senegalese torna tra i convocati dopo l'infortunio. Andiamo a vedere anche la pagina di l'Aquila Vezzano sul Mona, sempre dal centro. Assalto al casello dell'Aquila Est, blizza picconate dei banditi che si fanno consegnare i soldi dall'unico addetto. Bando turismo, tutti in fila per 10 milioni di euro il progetto di Invitalia. Ancora andiamo all'Aquila, ex Intex, piano per ricollocare i licenziati. Poi dall'Aquila ci spostiamo nella Marsica d'Avezzano, Ramo si stacca da un albero in pieno centro. Poi ancora l'Aquila e sul Mona, nuove iscrizioni, gli studenti premiano i licei. Vediamo anche il calcio in basso, il calcio di serie D. Parliamo dell'Avezzano, in questo caso il presidente d'Alessandro dà fiducia al tecnico Gianpaolo dopo la sconfitta interna con l'Olimpia. Agnonesi, Avezzano imparagato nelle zone basse della classifica. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Ecco, vedete il titolo di apertura riguardo ai due incidenti mortali di cui parlavamo pochi minuti fa. Due morti sulle strade della nostra regione. Auto finisce sotto il rimorchio di un tiro a Carsoli straziato, luminare chietino di 55 anni. Poi frontale tra vetture sulla stradale adriatica, tra Casal Bordino e Torrino di Sangro. La vittima è un francavillese. Vediamo poi più in basso Pescara, discariche depuratore, nove indagati. E poi Teramo, funivi a cavi tagliati. La procura indaga l'ipotesi e sabotaggio. Prati editivo, l'inchiesta contro ignoti. Si controllano le immagini delle spycam. Vediamo anche altri titoli che riguardano la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Andiamo in basso, parliamo di scuola, iscrizioni, il boom del liceo classico. Aumentano le iscrizioni proprio al liceo di Pescara. In alto vediamo la cronaca, l'Aquila, assalto al casello. I banditi sventrano la cassa automatica a colpi di piccone. E poi Castel di Sangro, casa di riposo, la caduta dalle scale in carrozzina, uccide un anziano. E poi Pescara, patron Sebastiani. Ora ha davvero tutti contro il numero uno biancazzurro insultato, contestato all'Adriatico. Dopo la manita del Brescia, tifosi che non sono rimasti soddisfatti dal mercato. Vediamo la prima pagina del quotidiano La Città. Pratica i sindacati per fare prima, ricostruzioni giallo-verdi, modello Emilia non ha funzionato e verrà presto abbandonato. Vedete anche sul quotidiano La Città, stato di calamità permanente. Il maltempo cancella le spiagge del Terramano. E poi la cronaca, truffe agli anziani, quattro arresti, si fingevano carabinieri o addetti alla raccolta rifiuti. E poi il calcio, Terramo, la verità nei prossimi 270 minuti contro Rimini, Fano e Monza. Lasciamo i quotidiani abruzzesi, siamo all'edicola nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo di apertura lo vedete in alto. Il quotidiano milanese titola la UE a rischio i fondi TAV. Potremmo chiedere indietro i soldi. Toninelli, ma il governo, ha detto il ministro ieri a Pescara, il governo, ha detto Toninelli, è sovrano. Vediamo poi più in basso il Papa, lo sceicco e l'imam. Mai la fede sia violenza. Il viaggio del Papa negli Emirati Arabi è stato firmato un documento sulla fratellanza. Il fatto quotidiano, processo Salvini, il Movimento 5 Stelle pensa ad un referendum fra gli iscritti. Vediamo anche la prossima pagina. Repubblica Venezuela, la sveglia di Mattarella. L'Italia si schieria, ha detto il Presidente della Repubblica, con la democrazia. E poi, vedete a centro pagina, l'Europa-Roma rischia di restituire i fondi TAV. Non si placa lo scontro Lega-Movimento 5 Stelle. Poi, vedete la foto, il Papa con l'imam per la fratellanza, 800 anni dopo San Francesco. La storica prima visita di un pontefice nel cuore dell'Islam. Siamo al messaggero nazionale. TAV, il no, costa un miliardo. Vedete questo il titolo di apertura che riguarda proprio la vicenda. TAV con posizioni differenti anche all'interno del governo. Vedete il Papa e l'imam patto contro i terroristi. E poi ancora Roma in questo caso. Stadio, ultima Capriola, c'è il sì con lo scoglio per strade e trasporti. Una notizia che riguarda Venezia. A Venezia turisti su prenotazione dovranno pagare con tassa di ingresso. Il mattino di Napoli, reddito, c'è il sito, manca il resto. Attivato il portale web per le informazioni, scontro Ministero Impres sul numero dei beneficiari, regioni, comuni e CAF nel caos. Vediamo anche il manifesto. Mister Card, questo è il titolo con corredo di foto. Di Maio presenta la prima card del reddito di cittadinanza e il sito web per le domande. I 5 milioni di potenziali beneficiari andranno mediamente circa 5 mila euro l'anno. Ma l'Inps riduce la platea, bordate da Confindustria scoraggiano la ricerca del lavoro. In alto un altro titolo che riguarda un altro argomento, quello della TAV, l'Unione Europea senza TAV. Rivolgiamo i soldi da Bruxelles, l'ultimatum all'Italia sul tunnel. Ma il Ministro Toninelli dice chi se ne freca il buco è inutile. Questo è il titolo, lo vedete con il sommario proprio sulle dichiarazioni del Ministro Toninelli che ieri era a Pescara, ieri pomeriggio. Vediamo il sole 24 ore, reddito controlli a chi rifiuta il lavoro, scontro sui dati Inps. E poi vedete anche la foto perché questa sera prende il via il Festival di Sanremo che raccoglie spot per 30 milioni. Claudio Baglioni intanto, vedete il titolo in alto, accusato di conflitto di interessi. Andiamo a vedere anche il tempo, ambulanze bloccate, malati a piedi, ospedali romani pieni, questo è il titolo che riguarda Roma in particolare. Poi sciò per il reddito di cittadinanza di Maio, presenta sito e tessera. La verità, in ospedale non vogliono far nascere i bimbi, proibito difendere la vita. Questo è il titolo della verità e poi Sanremo parte tra i veleni, la gente di Baglioni alle selezioni dei cantanti. Vediamo anche la stampa di Torino, Italia isolata sul Venezuela, Mattarella avvisa il governo e Salvini si smarca dal Movimento 5 Stelle. Intanto TAV arriva l'ultimatum dell'Unione Europea. Poi vedete questo titolo che riguarda la cronaca, Simona bruciata viva dall'ex, lo denunciava da due anni. Vediamo anche il secolo.it, lasciateli cantare. Per farsi notare Di Maio, Di Battista e Figo andrebbero pure a fare i menestrelli all'Ariston di Sanremo. Vedete questa foto, questa caricatura del secolo.it, avvenire il quotidiano della CEI. Ovviamente punta l'attenzione sulla visita del Papa, in una prima storica visita del Papa, in un paese arabo a stragrande maggioranza musulmana. Patto di fratelli, il Papa e l'Imam di Al-Zar firmano la storica dichiarazione In nome di Dio, no a odio e violenza, libertà di culto, più diritti per le minoranze e le donne. Poi reddito, pronti, sito e card sulla TAV, avvertimento dell'Unione Europea. Lasciamo i quotidiani nazionali, torniamo al centro, andiamo a vedere le pagine che riguardano la politica, perché come detto domenica si andrà al voto. Ultimi giorni per la campagna elettorale, anche nelle prossime ore ci saranno leader politici nazionali che arriveranno per l'ennesima volta, il caso di dire per alcuni, nella nostra regione. Meloni lancia la sfida sulle infrastrutture. La leader di Fratelli d'Italia, ospite di Confartigianato a Chieti con Marsilio, vie di comunicazione più veloci e liceo del Made in Italy. E poi c'è l'appello del Movimento Cristiano Lavoratori, vicini al programma di Marsilio in basso. Vedete? Non voglio le alici del Marocco, voglio quelle italiane. Sant'Egidio alla vibrata, il fuori programma di Armando, undici anni, sul palco con Salvini. Vediamo anche l'altra pagina, parliamo del Movimento 5 Stelle, lo dicevamo prima, Toninelli, strada dei parchi, scontro sulla concessione, il ministro delle infrastrutture a Pescara per la campagna elettorale di Sara Marcozzi, soldi per la messa in sicurezza di A24 e A25 ci sono, il concessionario risponde. Non è vero. Vediamo poi in basso, proprio il ministro Toninelli, ieri al suo arrivo a Pescara, arrivo in aereo da Milano, volo di linea all'Italia, ha incontrato per qualche minuto, lo vedete nella foto, il presidente della saga Enrico Paolini. Si è parlato del coordinamento tra le tre regioni, Abruzzo, Marche e Umbria, che hanno costituito questo coordinamento dei tre aeroporti, che si trovano tra l'altro in aree terremotate. Enrico Paolini, presidente della saga, ha parlato proprio di questo, dello sviluppo di questo progetto con il ministro Toninelli, che si è mostrato molto interessato. Torniamo alla politica, azione politica, in questo caso con Gianluca Zelli, dice la sanità abruzzese ha bisogno di una rivoluzione. Andiamo a vedere anche la terza pagina dedicata alla politica, questa volta il fronte del centro-sinistra. Legnini, lavoro dagli altri, solo propaganda. Il candidato presidente agli imprenditori di Confindustria, vogliamo una regione nuova che sia vicina alle imprese. E sempre Legnini, incontra gli ordini, nuove norme e collaborazione per le esigenze degli architetti. E intanto autonomia, Stefani ne parla a Teramo, il ministro delle regioni, sarebbe un grandissimo onore poter avere sul tavolo una richiesta dall'Abruzzo. Restiamo in Abruzzo, parliamo di occupazione, la formula che aiuta a trovare lavoro, si chiama Mondamundis ed è un portale gestito da CNA e Exagogica, che mette in contatto domanda ed offerta. Vediamo poi le cronache, siamo a Pescara, ospedale, emergenza in tre reparti per il picco dell'influenza, in difficoltà geriatria, pediatria, medicina e posti letto non bastano più. E poi la culla antiabbandoni, inaugurata e sparita. Giornata contro il cancro, tumori, serve prevenzione, i giovani vanno formati, parla Lombardo, presidente della LILTE, tra i fondatori del reparto di oncologia dell'ospedale di Pescara. In basso appello ai candidati, salviamo il taxi sociale, l'associazione sottosopra chiede un contributo per l'acquisto di un pulmino destinato a 30 disabili. Prima via libera al piano che rivoluziona il traffico, siamo ancora a Pescara, le proposte, la giunta approva il documento che prevede altri sensi unici e piste ciclabili. Se ne parlerà tra l'altro questa mattina a Palazzo di Città, nel corso di una conferenza stampa. Intanto sconti per chi va a lavoro con la bici o con il bus. In arrivo, ha detto l'assessore Presutti, le agevolazioni anche per acquistare mezzi e due ruote al via. La sperimentazione. Vediamo anche la prossima pagina, pagina 17. Arrivano i fondi statali, 2 milioni alla provincia, ma non sono sufficienti. Le risorse non potranno essere usate per la manutenzione di strade e scuole. Zaffiri, presidente della provincia di Pescara, abbiamo ottenuto, dice, di destinare queste somme alla chiusura del bilancio. E via la manutenzione delle strade, come detto anche prima, scattano lavori per 250 mila euro. Danni all'ambiente, chiusa l'inchiesta, 9 indagati per le discariche abusive. Progetto di recupero, reinseriti al lavoro in tribunale, 4 cittadini condannati. E domenica il voto, cambia qualche seggio, il comune spostamenti per lavori in alcune scuole e per le tessere elettorali. Ulp aperto anche di domenica. Spettacolo di cabaret per sostenere progetti di sport per disabili, 28 febbraio al massimo di Pescara, in scena, a basso, la scuola. Ecco le 19 artiste del trucco con diploma della Regione, diplomi consegnati proprio nell'ambito di una cerimonia. Vedete la foto e tornando a parlare di solidarietà, tombolate e organizzate dalle mamme per aiutare l'Agbe. Iniziativa via Facebook. Siamo a Montesilvano, programma sicurezza, installate 20 telecamere nei parchi della città. E poi in via Mantua, grande cipresso si abbatte all'interno di un parcheggio in basso e piccoli atleti imparano a salvare vite e proseguono gli incontri del progetto Montesilvano Sicura, promosso dai consiglieri Silli e Pompei. A Città Sant'Angelo, addio a Bruno Boschi, un grande artista nato per il territorio. Città Sant'Angelo piange l'attore che ha calcato le scene di tutta Italia. Aveva 70 anni. Questa mattina si terranno i funerali. Siamo a Pianella. In arrivo 70 mila euro per rifare strade e scuole. Arrivano i fondi del Ministero dell'Interno. In basso, protezione civile in gara a Brunico. Il Modavi, disportore con la squadra abruzzese, al campionato nazionale di sci. Vediamo la prossima pagina. Siamo a Francavilla al Mare. Nuova ala da 800 posti al cimitero di Francavilla. Aperta la struttura. I lavori del costo di 2 milioni di euro sono cominciati nel 2016. Elia e Martelli in corso. Selezioni regionali. Ex assessore e consigliere con il centrodestra. Parliamo di ex assessore e consigliere del Comune di San Giovanni Teatino. Ci spostiamo a Penne. Brioni scontro sul contratto. Sindacati sul piede di guerra. Penne sotto accusa i licenziamenti individuali e il pagamento dei permessi. Abbiamo realizzato proprio su questa vicenda un servizio. Primo servizio che vi proponiamo questa mattina. Continuano i problemi qui nell'azienda Brioni. Roma sta il di Penne. Si cerca comunque di andare avanti. Ma che cosa sta succedendo? Niente. Praticamente c'è una rottura fra le sigle sindacali e l'azienda. Per un accordo che noi non abbiamo voluto rifirmare perché c'erano delle cose che a detta nostra si potevano migliorare. Quindi l'azienda ha posto un veto e quindi noi ci siamo un attimino fermati. Da questo è scaturito un comportamento unilaterale dell'azienda con dei licenziamenti individuali e con delle prese di posizioni anche per quanto riguarda i pagamenti degli ore di permesso delle persone. Abbiamo chiesto comunque di attenersi a quello che era il contratto nazionale del lavoro però l'azienda in questo ha posto un muro e quindi dobbiamo vedere adesso come andare avanti e come risolvere la situazione. Basti pensare, l'ultima azione che sta facendo l'azienda è consegnare delle lettere a dei lavoratori che hanno banca ore negativa, quindi un debito, ricordando il debito e facendo il calcolo monetario di questo debito però per contro non sta facendo la stessa cosa con i lavoratori che invece hanno un credito nei confronti dell'azienda e quindi non capiamo questo atteggiamento. Questa diversità tra banca ore negativa e positiva è proprio dovuta alla scarsa organizzazione che la dirigenza ha dimostrato in questi ultimi anni. Siamo in piena confusione e vogliamo chiarezza, vogliamo chiarezza perché così altrimenti non si può andare avanti. Avete chiesto un altro incontro all'azienda per capire quali sono le situazioni da affrontare e quali saranno gli sviluppi futuri. No, noi nell'ultimo incontro avvenuto nello scorso mese di gennaio abbiamo chiesto di incontrarci nuovamente con l'azienda e hanno detto che ci facevano sapere loro perché non era prefissato un altro incontro con l'azienda. Da Penne ci spostiamo in Val Pescara, Caramanico Terme, il furto dell'assunta finisce a chi l'ha visto. Caramanico a distanza di 69 anni ripartono le indagini per recuperare il simbolo della comunità. Torniamo a parlare per un attimo di politica con il candidato del centrodestra Marsilio che a Tocco fa il pieno di emozioni il candidato alla regione nel suo paese d'origine Tocco da Casauria. Siamo alla pagina di Chieti, violenza in classe, l'inchiesta palpeggia l'una di 13 anni, professore indagato in basso, morte improvvisa in ospedale, paziente stroncato da infarto, eseguita l'autopsia e poi evade dai domiciliari per rubare, sorpreso al centro commerciale, 41enne bloccato dai carabinieri. Camion salta la carreggiata sull'A14, incidente all'altezza di Dragonara, ferito l'autista, sfondati 70 metri di guardrail e poi soccorso a Passo Lanciano, turista inglese dispersa sulle piste, è stata salvata e ritrovata nella notte. La tragedia di Torino di Sangro, frontale tra due auto, muore a 46 anni, schianto alle morge, la vittima è Cosimo Florio, ferita grave anche una donna che è stata ricoverata a Pescara. Preso con la droga, spunta la lista dei clienti, interrogato in carcere le 48enne di Casalbordino, accusato di spaccio. Andiamo avanti, siamo a Lanciano, la società dei rifiuti, nuovi posti a Lanciano, Ecolan, cresce il fatturato, in arrivo 28 assunzioni. E ancora a Lanciano, pannelli rubati, scattano le pene. Proseguiamo con la prossima pagina del centro che ci porta a Teramo. Immigrazione, decreto sicurezza, 80 disoccupati in più. Gli effetti delle nuove norme in provincia, metà degli operatori di Cassa e Sprar a casa e decine di stranieri nella clandestinità. Cabinovia spunta l'ipotesi di tentata strage. Cavi elettrici tagliati, la procura indaga per danneggiamento, ma potrebbe optare per l'ipotesi più grave. Insulti alle studentesse, prof a processo, il caso a Giulianova, insegnante di sostegno accusata di abuso di mezzi di correzione su tre ragazze di terza media. E domani al Crocetti Cerulli, visita del ministro dell'istruzione Bussetti. Cronaca, truffati 20 anziani, banda in carcere, arrestati 4 rom di Martinsicuro, Mosciano e Giulianova. Ancora Martinsicuro, vendita illegale di un pitone commerciante denunciato. E a Giulianova ha rubato portafogli alla stazione ferroviaria devastata la costa teramana. Alba Ligatica chiede lo stato di emergenza. I danni provocati dalle mareggiate ammonterebbero a circa 2 milioni di euro. Il sindaco Casciotti, un giorno buio, gli operatori non saranno lasciati soli. Più tardi vedremo anche un servizio. Le reazioni, tutti d'accordo contro i ripascimenti. Interventi inutili. Allarme a Roseto, quasi azzerata la spiaggia di Cologna. Vedete i danni che la mareggiata ha portato nel Teramano. E a Pineto si pianificano lavori anti-erosione. Sindaco di Silvis Cordella. Adesso vogliamo sapere chi sono i responsabili di questo disastro. Allora, proprio con le parole del sindaco di Silvis Cordella, andiamo a vedere il servizio. Ascolteremo diversi interventi proprio sull'ultima mareggiata che ha causato danni su tutta la costa abruzzese. L'Abruzzo fa la conta dei danni dopo le eccezionali mareggiate del weekend che hanno interessato quasi l'intero litorale da Martinsicuro al Vastese. Un evento eccezionale per portata e durata con danni ingenti che hanno messo in ginocchio balneatori e amministrazioni comunali tra le zone più colpite, quella di Pineto. La regione sta portando avanti un progetto che è il progetto Ancora dove ormai si pensa a protezioni un po' più risolutive che sono quindi le protezioni rigide. Io dico la verità, Pineto ha sempre voluto evitare questa cosa in passato perché il mare aperto è molto più bello però ormai dobbiamo pensare anche alla protezione delle nostre attività e delle nostre abitazioni. Già da ieri si era registrato l'intervento della regione e questa mattina il dirigente ad Interim del settore opere marittime Franco Gerardini ha iniziato i primi sopralluoghi per la valutazione dei danni. Qui rileviamo la necessità di posizionare dei massi, delle radenti che possano mettere in protezione queste infrastrutture. Innanzitutto bisogna lavorare insieme tutti, operatori, comune, regione, per avere all'unisono intenzioni chiare ed efficaci. Questo ci consentirà di fare prima della stagione tutti gli interventi necessari. Su quanto accaduto nelle ultime ore è intervenuto anche il candidato presidente per il centrodestra alla regione Marco Marsilio che ha effettuato un sopralluogo sul litorale di Silvi con il sindaco Andrea Scordella. Oggi abbiamo avuto la prova provata che non si trattava di ululati o di allarmismi ma di un problema reale, concreto e presente. Qui a Silvi con l'aggravante perché mentre ieri ad Alba Triatica non si è ancora capito se esistono progetti e dove sta questa scheda progettuale, in quale cassetto o di quale ministero, qui abbiamo l'assurdità di progetti pronti, approvati, finanziati. Parte dei lavori già fatti e non a caso dove sono stati fatti la mareggiata non ha colpito e ha risparmiato gli stabilimenti. Qui non parliamo dei danni che si sono verificati in maniera eccezionale, qui parliamo dell'incuria della regione Abruzzo perché è impossibile che in sei mesi, sei mesi di tavoli, tutto pronto, manca una firma e non si riesce a dare in gara d'appalto questo tratto. Andiamo avanti, siamo ad Atri, sempre provincia di Teramo. Basilico Salvini ha parlato di tutto ma non dell'Abruzzo, polemizza il consigliere di Atri Civica. Vedete l'articolo nella parte alta della pagina. Poi ancora Silvi, pensiline e pali rotti alle fermate dei bussi, il comune interviene in basso tornando ad Atri alla ricerca dei passaggi sotterranei. Ci sarebbero altre grotte da scoprire nel sottosuolo. Proseguiamo, siamo all'Aquila, colpo nella notte al vaglio e filmati, casello autostradale assaltato a Picconate, incursione all'Aquila Est. Guardia di finanza, più controlli e qualità, la riforma dei reparti assicura una maggiore presenza sul territorio e interventi capillari. Schianto contro il tir, muore docente, autostrada 24, la tragedia. Andrea De Luca, 55 anni, era di Chieti e dirigeva il reparto malattie infettive dell'azienda ospedaliero universitaria di Siena. Ad Avezzano paura per la caduta di un grosso ramo e poi in basso Ortucchio, all'orso da quattro giorni fra strage di animali, proprio ad Ortucchio attaccate le stalle e uccisi polli, conigli e pecore. Post sisma, siamo ancora all'Aquila, turismo tutto in fila per il bando da 10 milioni, diversi progetti per l'area del Gran Sasso e dell'altopiano delle Rocche. L'avvertenza all'Aquila, ex Intex, illustrato il piano per ricollocare i ricercatori e poi la sede del GIS, incontro con barca sulla ricostruzione. Proseguiamo con la prossima pagina, siamo sul Mona in Valle Peligna, scuola così il prossimo anno, boom di nuovi iscritti al liceo scientifico, fermi. E poi altri danni e la statua di Ovidio, sgretolato un angolo del basamento in pietra del monumento, da poco restaurato ancora sul Mona, rifiuti, proteste per i ritardi nel ritiro dei Mastelli in centro. Siamo arrivati alle pagine dello Sport, allora possiamo fermarci per qualche istante e poi torneremo in studio come sempre per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero. Abruzzo al voto, Legnini incontra i rappresentanti delle professioni, questo è il titolo di pagina 34. E poi vedete a centro pagina Toninelli, i pedaggi sulle autostrade? Sono stato io da solo a bloccare gli aumenti, ha detto ieri il ministro a Pescara. Poi vedete in basso Marsilio Lameloni sulla costa devastata dalle mareggiate. Pescara, domenica senza shopping, tutti d'accordo. Raffaele Fava della Confesercenti, le piccole attività non possono, dice certo, tenere il passo dei centri commerciali. Franco Danelli della Confcommercio va contro corrente, in questo modo si potrebbero perdere preziosi posti di lavoro. Discariche, indagati otto dirigenti del comune. Iscrizioni agli studenti, piace andare al liceo, gli istituti tecnici in calo. Questi numeri che riguardano Pescara e la sua provincia, percorso lavoro casa, arrivano 140 bici gratuite, previsti altri incentivi per la viabilità pulita. E poi taxi sociale truffata, la Onlus sotto sopra. Andiamo a vedere anche la prossima pagina, la polizia blinda le discoteche, butta fuori aggredito con un coltello, un caso isolato dopo la stretta dei controlli della questura. E poi il progetto con i detenuti più meritevoli che lavorano al Tribunale. Tre licenziamenti alla Brioni, soppressione di mansioni, abbiamo visto prima il servizio. L'Aquila, Intex, per i 70 ricercatori si apre qualche spiraglio, sottoscritto ieri un protocollo d'intesa con la Regione. Migliore, Legnini, il più autorevole, ha detto il deputato del Partito Democratico, migliore, che è arrivato ieri all'Aquila. Prigionieri in casa servono regole a Piazza Chiarino, la denuncia del costruttore Prosperini, i cantieri bloccano tutto, anche i soccorsi. Assalto al casello per rubare i pedaggi, una banda colpita intorno alle 23 di domenica, minacciato il casellante, scassinata la cassa automatica. Ocre, bus della tua fuoristrada per il ghiaccio e poi a centropagina Fontana della Rivera la splendida monografia di Ferdinando Bologna. Andiamo a vedere anche la prossima pagina che ci porta ad Avezzano e sul Mona. Partiamo dalla Marsica, proprio a Avezzano, mercato del sabato, scontro sulle tasse. Alcuni commercianti accusano il Comune di cercare soldi che non ci sono per la crisi legata anche al trasferimento. Interviene il dirigente comunale Paciotti, bisogna parlare con l'Inps e rateizzare i contributi. Per noi è tutto in regola. Celano, il giallo del camion abbandonato senza guida. E poi sul Mona, il sindaco Casini in prima fila tra i fan della Scoce. Poi San Benedetto dei Marsi, mezza Marsica, cerca un pensionato scomparso. Castel di Sangro cade nella casa di riposo. Muore anziano ad Avezzano, poi politica, centrodestra agitato, aspettando Berlusconi. Siamo alla pagina di Chiedi. Incidente sull'autostrada muore infettivologo teatino e professora Andrea De Luca, 55 anni, era direttore di malattie infettive a Siena, sull'Ave D24, vicino Carsoli. La sua Fiat 500 è andata ad impattare contro un rimorchio. Il ministro Bussetti domani in visita all'Università d'Annunzio, la presenza dunque del ministro dell'Istruzione. E poi a Pasto Lanciano scompare mentre scia, scattano le ricerche. È stata ritrovata inottata questa ragazza di 26 anni. Santa Filomena un centro per il dopo di noi. E poi Serbatoi Gas non a norma. La Walter Tosto, Serbatoi, chiede i danni. Ieri in udienza ha messe le parti civili. Niente prescrizione. Proseguiamo con la prossima pagina che ci porta in provincia di Chiedi. Siamo a Casalbordino, schianto frontale, muore a 47 anni. Poi Ortona, troppi furti nel quartiere. Il sindaco convoca i residenti. Ancora Lanciano, pannelli solari rubati. Due marocchini, i primi condannati. Ancora Lanciano, Ecolan, sia la svolta con postaggio. Via l'assunzione di 28 lavoratori. Cupello, c'è il piano d'emergenza, Stogit. Ma nessuno lo sa. Teramo, i cavi tagliati a prati di Tivo. Il PM non esclude la strage. A centropagina tribunale, assistente difende la docente. Accusata di atti vessatori. E poi il piano industriale popolare di Bari torna a preoccupare. In basso, decreto sicurezza. 200 posti in meno nelle coppa. L'arme dei sindacati si perdono figure e ruoli strategici nel settore sociale. Proprio quello che serve di più. E proprio sul decreto sicurezza possiamo andare a vedere il prossimo servizio. I primi effetti del decreto sicurezza voluto dal governo come regola all'immigrazione non sono ancora valutabili. Ma c'è grande preoccupazione in provincia di Teramo per il futuro dei quasi 800 immigrati accolti e distribuiti sul territorio. Nel Terramano ci sono 10 CAS, centri di prima accoglienza e 2 SPRAR, centri di integrazione. Il timore degli operatori è che a causa del nuovo decreto l'80% di questi ragazzi a giorni si ritroverà in strada. Senza protezione umanitaria, senza la possibilità economica di rientrare nel proprio paese di origine e senza la possibilità di trovare un lavoro. Clandestini, alla possibile mercè della malavita. Questi ragazzi che fine faranno? Allora, purtroppo dopo il decreto sicurezza molti si ritroveranno per strada perché purtroppo il nostro è un centro di prima accoglienza quindi rimangono da noi fino a quando non si definisce l'iter giudiziario per avere la protezione internazionale. Dopo la decisione della Commissione territoriale o del Tribunale sui loro ricorsi, quindi quelli che avranno la protezione internazionale dell'asilo politico o la protezione sussidiaria avranno diritto di accedere allo SPRAR. Gli altri con la protezione umanitaria purtroppo non avranno più questa possibilità e da un giorno all'altro si ritroveranno per strada. Chi sono questi ragazzi? Sono soprattutto ragazzi africani, il gruppo più consistente nigeriano, però diciamo dell'Africa subsahariana e poi una piccola minoranza di ragazzi bengalesi. E per strada cosa faranno? Dove andranno? Questi sono gli effetti del decreto sicurezza che invece di produrre sicurezza per i cittadini e per i ragazzi titolari di documenti produce insicurezza. La CGL Terramana ha organizzato un focus sul nuovo decreto sicurezza anche per realizzare una mappa completa dei servizi presenti sul territorio e per ascoltare le esperienze degli operatori e degli immigrati. Abbiamo messo insieme, invitato molti degli operatori che stanno nel territorio e che hanno esperienza diretta nella gestione dell'immigrazione perché in questi ultimi tempi purtroppo continuamente si parla di immigrazione, si parla di insicurezza e probabilmente a sproposito. Intanto in provincia di Teramo si moltiplicano le proteste contro una politica che sembra trattare il problema dell'immigrazione con una buona dose di cinismo. Ed ecco così apparire durante i comizi di Salvini, a Sulmona e ad Atri installazioni che ricordano gli annegati in mare e il monito del poeta abruzzese Ovidio è in più colui che non accoglie lo straniero. Siamo alla pagina della provincia di Teramo. Salvini ringrazia per i quattro rom in manette, gli arresti ad Ancona, Giulia Nova, l'ufficio Anagafo è stato preso d'assalto, Sant'Egidio, restyling del campo di calcetto, Paolo Antonio, Tortoreto, la torre si illumina di rosa per il Giro d'Italia e infine Val Vibrata, mareggiata, danni enormi. E' stato di emergenza. Siamo arrivati alle pagine dello Sport e il messaggero. Ripartiamo però prima di parlare di sport. Invece dal quotidiano La Città, Toninelli torna ad attaccare strada dei parchi. Basta balla, i soldi per la sicurezza ci sono. Il concessionario risponde, forse il ministro ci confonde con altri. Dunque continua la polemica a distanza. Pescara, otto indagati per le discariche abusivi. Teramo, provincia, presto cambierà di nuovo tutto. La proposta del ministro delle regioni Stefani, discussa ieri a Teramo, elezione diretta del presidente e consiglio dei sindaci. Ricostruzione Ater, le assunzioni diventano 5, part time e per un anno di contratto. In basso terremoto, pratiche B e C e gli uffici comunali per accelerare la ricostruzione. Il coraggio di trovare l'unicum terramano. Luciano D'Amico spiega le ragioni della candidatura con Legnini. Scusate, personali, professionali e politiche. L'intervista all'ex rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico. Avanti tutta nella battaglia per la casa. Centro Santa Croce Sportello Sociale, soddisfatti dalle decisioni dell'amministrazione per Via Longo ed Emergenza Abitativa. Vediamo la prossima pagina col decreto Salvini, solo più clandestini. La CGL spiega gli effetti socio-economici dello smantellamento dei programmi di integrazione per i migranti. Abbiamo appena pochi istanti fa visto il servizio di Tania Bonnici-Castelli. Proseguiamo. Fibrillazioni per l'incontro 3.0 con Marsilio. La riunione del gruppo civico con il candidato di centrodestra, poi saltata, ha tenuto banco in maggioranza. E dal 12 al 14 aprile la fiera dell'agricoltura al Bonolis, presto il bando per il progetto Plastica Zero. L'Inps farà scuola, la sperimentazione del protocollo diventerà un vademecum per altri uffici pubblici e privati. Andiamo poi più in basso, crateri pieni d'acqua e fango nei parcheggi di San Nicolò. Andiamo a vedere, e poi la cronaca, in manette la banda che ripuliva gli anziani. Quattro rom terramani, tre donne e un uomo hanno recimolato 200 mila euro fingendosi carabinieri o addetti dei rifiuti. Le ciclabili sono il vero traino del turismo locale, lo dice l'assessore regionale alle politiche agricole Dino Pepe. In basso parliamo di sicurezza, la Guardia di Finanza si riorganizza anche in provincia di Teramo. Da inizio anno è infatti in vigore la riforma dei reparti territoriali per garantire una presenza capillare delle fiamme gialle sul territorio. Costa Teramana in ginocchio, chiesto lo stato di calamità per la mareggiata, spiagge scomparse, sciale distrutti, sindaci della costa. Lavoriamo insieme senza più campanilismi, vedete le immagini e i danni provocati dalla mareggiata dell'ultimo weekend. Abbiamo visto nella prima parte di mattino 6 anche il servizio. La CNA chiede la riduzione dei canoni, servono misure urgenti per coprire i gravi danni patiti dagli stabilimenti. Di Buonaventura, presidente della provincia di Teramo, convoca un tavolo quaresimale annuncia la visita del sottosegretario di governo Giancarlo Giorgetti. Siamo alla pagina della Val Vibrata. Martinsicuro mette in vendita su internet un raro pitone reale, viene denunciato. E poi ancora Martinsicuro, cresce il comitato per salvare i tigli. Gli imprenditori turistici e associazioni scendono in campo contro l'ANAS. Ancora Sant'Egidio, regionali. De Annuntis chiude la sua campagna elettorale a Sant'Egidio. Tortoreto, giusto sacrificare qualche parcheggio per la ciclabile. La FIAB plaude al progetto per realizzare una nuova pista lungo Viale Gabriele D'Annunzio. Siamo alla pagina di Giulia Nova. La sua polemica sulla visita del ministro Bussetti Rossi non diventi una passerella elettorale sul lavoro svolto da altri. E poi ancora Giulia Nova una task force per organizzare il cartellone degli eventi estivi, aperti sempre a Giulia Nova, gli uffici elettorali in vista del voto di domenica. E inizia la fase di recupero delle lampade storiche al via i primi sopralluoghi calchi in arrivo per quelle non più utilizzabili. Siamo alla pagina di Atri, Roseto, Pinetro e Silvi. Atri, bagno di folla, installazione e lancio di uova per Salvini. Tre anni di promesse non mantenute. Siamo a Roseto. Roseto al centro attacca sullo stato di strade verde e illuminazione. E poi in basso ex amministratori Induccio con Di Bonaventura, grande partecipazione all'incontro a cui ha partecipato anche il candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Legnini. A Roseto risolto il problema degli scuolabus, il trasporto nella zona di Roseto Nord sarà garantito dal mezzo in servizio a Monte Pagano. Atri, un anno di ricerche sul lupo raccontato nell'incontro alla riserva dei Calanchi. Siamo alla pagina della cultura, questa società piena di parole mute, scomposizioni relazionali. Esce oggi il libro di testi inediti del drammaturgo Sciolet. E siamo così arrivati allo sport. Iniziamo con le pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla gazzetta dello sport. Capitano dove sei? Icardi e la crisi dell'Inter. I centravanti a secco da segare in campionato. La società gli chiede una svolta pure come leader, ma tra Mauro e i tifosi è polemica. Sui social per un Inter in crisi, un Milan che sta facendo bene nelle ultime gare. Piontech infallibile anche in Europa. E tra i re del gol due reti in Coppa, una in campionato nella gara con la Roma. Esordio migliore per il polacco con la maglia del Milan non poteva esserci. E ieri si sono giocati due posticipi di campionato con i colpi esterni di Atalanta e Lazio. Atalanta passata a Cagliari e Lazio in casa del Frosinone. Entrambe con il risultato di 1-0. Grande ammucchiata. Vedete in classifica per quanto riguarda il quarto posto. L'ultimo che regala un posto in Coppa dei Campioni. Milan 36 e poi un terzetto a 35. Atalanta, Roma e Lazio. Più indietro la Sampdoria a 33. Vediamo il Corriere dello Sport. La Juve ha paura. Primi stop per quanto riguarda i bianconeri. Di bala nervoso. E fra due settimane c'è l'ossessione Coppa dei Campioni. Il compleanno di Cristiano Ronaldo in compagnia di Neymar e Palazzo. E poi il campionato. L'Asio Casedo aggancia la Roma. Un gol proprio del giocatore. Casedo ha regalato la vittoria ai biancocelesti nel derby di Frosinone. Poi Scudo Marotta. Spalletti è solido. Ha detto il dirigente dell'Inter. Tutto sport. Tre regali per Ronaldo. Valanga di messaggi d'amore per il compleanno dell'attaccante bianconero che compie 34 anni. In alto vedete Atalanta da Champions con la vittoria di Cagliari. Grande passo avanti in classifica dei Nerazzurri allenati da Giampiero Gasperini. Andiamo a vedere le pagine dello sport dei quotidiani locali. Partiamo dal centro. I tifosi sfiduciano Spalletti. Siamo in casa Inter. Mamarotta lo conferma. E poi vedete come dicevamo i posticipi di ieri. Frosinone Lazio 0-1. Cagliari Atalanta 0-1. Parliamo del Pescara. Operazione rilancio. Pilon cambia. Il 4-3-3 dovrebbe andare in soffitta. Il tecnico punta su Marras trequartista dietro le due punte. Ma occhio al 3-5-2. Potrebbe essere proprio il 3-5-2 il modulo che Pilon potrebbe adottare. Domenica a Foggia. Foggia e a Foggia mancheranno Gravion e Del Grosso che sono squalificati a rischio anche Fiorillo per qualche problema fisico. E dunque non è un periodo fortunatissimo per il Pescara. E poi vedete in basso Monachello da quasi ex ad Arma in più. La punta finita ai margini negli ultimi tempi ora può diventare l'asso nella manica. Suo il gol è l'unico segnato nella sfortunata gara con il Brescia. Ieri nel posticipo 0-0 tra Palermo e Foggia. E proprio il Foggia sarà il prossimo avversario Del Pescara. La gara difficilissima quella di domenica allo Zaccheria. Parliamo di Serie C del Teramo. Biancorossi in difficoltà. Comisse punta. Però sul Teramo ci salveremo. Il portiere senegalese in panchina dopo un lungo infortunio darò sempre il massimo. E mi piacerebbe restare qui. Vediamo anche la Serie D. D'Alessandro Avezzano avanti con Gianpaolo. Il padrone marsicano conferma il tecnico nonostante la sconfitta con l'Olimpia agnonese. Poi vedete più in basso. Eccellenza Chiacchiarelli tripletta con una perla. Il centrocapista della Torrese. Gol da calcio d'angolo gioia doppia. In promozione Casalbordino-Vecchiotti per Appignani. Cambio in panchina anche allo Sportland Celano. Arriva Morgante. Vediamo anche la prossima pagina che riguarda il basket in particolare. Gialloreto condottiero di una teatra senza limiti. La guardia del Chieti dice siamo in crescita. E i nostri tifosi ci danno una grande carica. Raiola, tecnico coach dell'amatori Pescara, orgoglioso della mia squadra dopo due capò di fila. Il tecnico bianco-rosso guarda alla sfida di Porto. San Terpidio e poi in basso. Ginnastica ritmica. Armonia Chieti d'Argento al campionato di Serie C. Andiamo a vedere le pagine dello Sport del Messaggero. Sebastiani ora tutti contro. Il padrone del Pescara fischiato e insultato all'Adriatico dopo la manita del Brescia. Contestazione non me ne frega nulla. Se c'è qualcuno più bravo venga pure. Ci vorrà l'esperienza di Pilon per risollevare il Delfino dopo questo pesante KO. Biancazzurri senza maturità tattica. C'è un problema di atteggiamento di squadra. Il Teramo non può badare ai guai delle altre. Con le nuove disposizioni basterà il quarto-ultimo posto per evitare i play-out. Ma non basta. Gomis, il vice di Lewandowski, suona la carica. Dobbiamo cambiare assolutamente marcia. E oggi c'è la Coppa Italia di Serie C. Si gioca Viterbese-Ternana, il Diavolo. Alla finestra la Serie D. Cudini, il notaresco, dice il tecnico, lotterà per i play-off. Milizia, Francavilla, duro metabolizzare il KO con il Cesena. Real Giulianova, mea culpa di Bolzan. Oggi in prova due rinforzi. La società non accetta l'anticipo a sabato proposto dal Forlì. E dunque si giocherà domenica. Vediamo anche cosa si dice in casa della Vastese. Ancora un filo di vantaggio sulla zona play-out. Ma i biancorossi devono cercare di tornare al più presto al successo a Vezzano. Che disastro nelle gare casalinghe. Ma il presidente d'Alessandro conferma Giampaolo. E poi il volley. Si è così gode il terzo posto dopo la vittoria di Catania. Perso nel Rochi inarrestabile. Grazie Roseto, il figlio di Wesley, meglio del padre. Una scelta azzeccata. Momento positivo per il Roseto Basket. In basso rugby. L'Aquila non retrocederà. Parola di Calicchio. E poi Atletica. Gaia Sabatini, la Giulianti, Bottino d'oro. Tutto teramano ai campionati italiani juniores. Chiudiamo con le pagine dello sport del quotidiano La Città. Teramo la verità nei prossimi 270 minuti. Dal Rimini al Monza. In mezzo allo scontro diretto sul campo del Fano di Massimo Epifani. In tre partite il Teramo capirà meglio qual è il destino. Che lo attende in campionato. Enrico Gomis. Diavolo ci salveremo. Il portiere rientrato dopo un lungo infortunio. Si gioca un posto da titolare fra i pali. La Serie D. L'autocritica del tecnico del Giulianova Bolzan che dice è tutta colpa mia. La pesante sconfitta di Matelica abbatte il Reale. Il tecnico non si nasconde. Vuole l'immediato riscatto. Campionato regionale di eccellenza. Torrese Superstar vince e vola. Al secondo posto in classifica. Infine il ciclismo. Manuel Fedele d'assalto supera tutti a Villa Musone. Il team Go Fast grazie al Pescarese vince la prova d'apertura per il quinto anno di fila. Siamo davvero giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6. Appuntamento che ritroverete come ogni mattina domani alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia. Ringrazio voi come sempre per la cortese attenzione. Vi do appuntamento alle 14. Per la prima edizione del nostro telegiornale. A proposito di sport non perdete questa sera in diretta dai nostri studi alle 21 con Jacopo Forcella e i suoi ospiti per parlare del Teramo nell'appuntamento del martedì. Appuntamento canonico con Proteramo. È davvero tutto. Buona giornata. Grazie a tutti.